Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Dunque ci siamo, domani riparte la programmazione sportiva di Telemolise per quel che riguarda la domenica. È partita già la nuova trasmissione Rosso Blu Gol, domani si riparte a tutto campo, domenica sport e poi lunedì con Molise a calci. Le prime due gare del campo basso in Lega Pro hanno inaugurato la programmazione sportiva della nostra emittente. La trasmissione curata da Luigi Di Lallo con Gaia Cosco segue live Rosso Blu in diretta dalle tribune stampa delle squadre inserite nel girone C con interviste in tempo reale nel post partita dagli spogliatoi. Ma domani riprende a pieno regime la programmazione sportiva della testata giornalistica sportiva e a presentarla è proprio il direttore Antonio Di Lallo alla sua 34esima stagione consecutiva con questa emittente. Queste prime giornate in sostanza abbiamo rispolverato una trasmissione che faceva parte della storia della redazione sportiva di Telemolise, quindi insomma in contemporanea con le partite del campo basso è già partita Rosso Blu Gol, con ospiti, interviste, con l'acquisizione del pacchetto Stadio Studio, quindi possibilità di collegarsi con Selvapiana, con lo Stato di Selvapiana e più in generale con gli stati di tutti i campi delle squadre che partecipano alla Lega Pro. Domani riprendono i campionati d'eccellenza e promozione, mentre la Serie D inizierà il 19, domani per la Serie D c'è soltanto il turno preliminare di Coppa Italia che seguiremo esattamente a Vasto Girardi e quindi abbiamo pensato che con la concomitanza dei campionati d'eccellenza e promozione Ripartiamo quindi con la programmazione sportiva alle 15.25 domani pomeriggio a tutto campo, in studio ci sarà Benedetta Fazio e ancora una ragazza che è un volto completamente nuovo della nostra emittente, quindi ci sarà anche Gabriella Laurelli mentre alle 18 domani pomeriggio domenica sport insieme a Leonora D'Aversa, Pino Somma dalla redazione di Termoli, Amodei dalla redazione di Isernia collegamenti con Viterbo e quant'altro insomma. Poi nella giornata di dopodomani lunedì via anche a Molise a Calci dove ci sarà questa trasmissione di riflessione che conduci proprio tu, sempre con ospiti, la Moviola e tutto quello che insomma al quale il grandissimo, il vastissimo pubblico della redazione sportiva di Telemolise è affezionato, è legatissimo. Quest'anno c'è la giunta di Rosso Blu Gol, quindi la programmazione è arricchita sportiva in ragione della Lega Pro che il Campo Basso ha guadagnato sul campo qualche mese fa. E certo, cioè dobbiamo pensare che è un campionato di C unica o di C1 perché l'ultimo campionato di C1 disputato dal Campo Basso è stato nella stagione 88-89, quindi insomma sono passati credo più di 30 anni. Quindi con il ritorno del Campo Basso in Lega Pro abbiamo rispolverato questa trasmissione che è stata storica perché ci sembra giusto seguire alla fine l'unica squadra del Molise che partecipa a un campionato professionistico. Naturalmente mi obbligo a ringraziare tutti i ragazzi della redazione sportiva di Telemolise perché insomma io lo dico sempre sono i migliori che ci sono sul mercato quindi evidentemente andiamo avanti con una formazione super collaudata soltanto con un unico innesto. E poi un ringraziamento particolare a tutti i tecnici che fanno veramente lavoro ordinario, straordinario e di più per consentire a noi della redazione sportiva di Telemolise di essere sempre pronti a sfruttare ogni occasione per assicurare il meglio a tutto il nostro vastissimo pubblico. Quindi buon calcio a tutti. Basket femminile di Serie A weekend in Sicilia per la molisana Magnolia Campobasso impegnata nel primo test pre-season nel Memorial Passalacqua ieri le Rosso-Blu hanno ceduto alle padroni di casa del Ragusa con il punteggio definitivo di 72 a 69 con parziali di 18 a 17, 37 a 29, 59 a 47. Oggi di nuovo in campo con palla a due alle 17, avversaria sarà la Dinamo Sassari che al pari delle Rosso-Blu sarà chiamata all'appuntamento dei prossimi preliminari di Euro Cup. Adesso il calcio di Lega Pro. Terza giornata in Lega Pro. Si gioca oggi Taranto-Palermo in campo alle 17, 30. Questa sera alle 20, 30. Foggia-Turris domani. Paganese-Catania ore 14, 30. Alle 17, 30. Catanzaro-Potenza così come anche Vibonese-Juve-Stabbia. Alle 20, 30. In campo Avellino-Lattina-Fidelis-Andrea-Francavilla-Monopoli-Messina-Monterosi-Campobasso-Picerno-Bari. Il Campobasso domani sarà impegnato nella prima di due trasferte consecutivi. A Viterbo i Rosso-Blu affronteranno il Monterosi. Cudini ragiona al sostituto dello squalificato Fabriani in difesa. Potrebbe esserci l'allargamento sulla fascia di uno dei quattro centrali soliti del Campobasso. Ipotizzabile che Menna venga spostato a destra e Magri al fianco di Dalmazzi. Al centro nel toto formazione per la trasferta di Viterbo contro il Monterosi-Tuscia-Trasferta nella quale non ci dovrebbe essere anche lo stesso De Biase per problemi fisici. Il Monterosi viene definita una favola nel complesso della Lega Pro. Un comune con solo 5.000 abitanti e la sportività che spicca fra i laziali che una settimana fa prima di abbandonare lo stadio San Nicola di Bari ha lasciato un biglietto di ringraziamenti proprio per l'ospitalità riservata dai pugliesi. Il Campobasso vuole il primo sorriso fra i professionisti. Cudini potrebbe mischiare le carte. Il fatto di schierare uno dei tre centrali over in difesa al posto dell'under Fabriani potrebbe indurre l'allenatore a cercare un altro under in altre zone del campo. Un serio candidato in questo senso può essere l'attaccante classe 2001 Davide Di Francesco. Altro cambio in attacco potrebbe riguardare il riferimento offensivo dentro Rossetti al posto di Parigi, possibile evenienza di Cudini. Sarebbe così una formazione molto vicina a quella che ha impattato ad Avellino 1-1 all'esordio di campionato. Sfruttare gli spazi e fare male in contropiede potrebbe essere una delle armi a disposizione del Campobasso di Viterbo. I rosso-blu avranno un seguito nel Lazio. Ad oggi risultano venduti circa 100 biglietti per i tifosi ospiti. Ricordiamo che la capienza dello stadio Rocchi di Viterbo con le limitazioni anti-Covid si aggira intorno ai 1.200 spettatori. È la terza volta del lupo alle 20.30. Il trend sarà interrotto sabato prossimo a Castellammare di Stabbia quando la gara partirà dalle 17.30. Si tratta di un campionato per ora molto equilibrato con pochi padroni in tutti i gironi. Nel girone A hanno vinto due gare solo Padova e Vercelli. Nel girone B solo il Pescara di Auteri. Nel girone C il Monopoli di Alberto Colombo è a punteggio pieno. Dalle 20.30 domani Monterosi-Tuscia-Campobasso sul campo neutro di Viterbo sarà diretta dal signor Grasso di Ariano Irpino. Calcio a 5 di Serie A2. Oggi pomeriggio prima amichevole ufficiale del Cus Molise. La formazione di Marco Sanginario sarà di scena al campo del Manfredonia. Sul campo del Manfredonia ne ho promosso in Serie A e avversario proprio del Rosso Blu lo scorso anno nel gruppo C di Serie A2. Squadra in campo alle 16. Sul fronte del settore giovanile partirà lunedì la nuova avventura per il Cus Molise Under-19 affidata al tecnico Antonio Di Stefano. Le settimane di preparazione che precederanno gli impegni ufficiali saranno utili per mettere benzina nelle gambe e per entrare negli schemi di gioco del nuovo tecnico. Calcio di Serie D. Se il prossimo weekend è in programma la prima di campionato, domani spazio al preliminare di Coppa Italia. Al Ditella il vasto girato ospiterà l'Aurora Alto Casertano. È tutto pronto per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. 88 compagini si affronteranno tra loro e raggiungeranno le 84 che di diritto partono dal primo turno in programma per mercoledì 22 settembre. Secondo il regolamento, in caso di parità al termine dei 90 minuti, si procederà direttamente con i calci di rigore per decretare l'accesso alla fase successiva. Chi si qualifica al primo turno in cui entreranno in gioco le 84 squadre aventi diritto conosce già l'eventuale avversario perché il tabellone è stato stilato secondo accoppiamenti predeterminati. Primo appuntamento ufficiale della stagione per il Vasso Girardi che domani inizierà l'avventura nella competizione tricolore in uno scontro dentro fuori con l'Aurora Alto Casertano, recentemente promossa in Serie D squadra che tra l'altro continua a puntellare la rosa. È notizia di queste ore l'ingaggio di Danilo Saiano, giovani 2002 in forza nel Nola I e nel Santa Maria Cilento in Serie D poi, già a disposizione di mister De Rosa. Quella di domani sarà anche l'occasione per testare la rosa giallo-blu ormai quasi definita in ogni sua parte. Il tecnico Fabio Prosperi avrà tutti i suoi ragazzi a disposizione, unico assente Cagnale, out da tempo, per un infortunio alla spalla rimediato nella preparazione estiva. Il Vasso Girardi è pronto a dare il massimo e a scendere in campo con il solito spirito battagliero che contraddistingue il gruppo. In queste settimane la squadra ha lavorato intensamente in vista della Coppa Italia e poi del campionato che inizierà il prossimo weekend e vedrà gli altomolisani impegnati in casa contro il Castelfidardo. Nulla sarà lasciato al caso, poiché nello spirito della squadra c'è la volontà di dare il massimo. La partita si giocherà al di Tella di Vasto Girardi. Il costo del biglietto d'ingresso è di 10 euro, ma per chi sottoscriverà l'abbonamento prima dell'inizio della partita sarà gratuito. Per accedere agli spalti è inoltre necessario il Green Pass. Sarà Gilberto Gregoris di Pescara a dirigere i 90 minuti assistenti Mara Mainella e Giuseppe Bosco, entrambi della sezione di Lanciano. Infine, grande soddisfazione in casa Vasto Girardi. Il vivaio giallo-blu continua ad essere bacino per giovani campioni. Un'ulteriore prova del valore del lavoro condotto dalla Società del Presidente di Lucente anche nella promozione e nella crescita dei giovani atleti. Filippo Fraraccio, classe 2005, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto alla primavera della Sampdoria. Filippo, in giallo-blu per tutta la scorsa stagione, è un promettente centrocampista centrale, capace anche come mezzala. Il ragazzo è stato già convocato nella prima giornata contro la SPAL, match terminato 1-0 per i blu cerchiati. Palla a volo maschile di Serie B, l'Energy Time Spike Campobasso ha messo in archivio i primi dieci giorni di preparazione. La formazione molisana sabato prossimo sarà impegnata al Palavazieri in un allenamento congiunto contro il Paglieta. Weekend di riposo per l'Energy Time Spike Devils Campobasso. Dopo dieci giorni di preparazione, mister Mariano Maniscalco ha concesso ai suoi ragazzi un piccolo stop. Da lunedì si ritornerà al Palavazieri per proseguire gli allenamenti. In agenda due allenamenti congiunti contro il Paglieta. La formazione abruzzese di Serie B sabato prossimo sarà in Molise, mentre il 9 ottobre l'impegno in Abruzzo. A proposito del gruppo, dovrà recuperare un po' di lavoro perso Domenico Maiorana, bloccato da un problema fisico che lo ha costretto ai box. Da giovedì si è aggregato alla squadra. La società di patron Marco Pulitano ha allestito un organico competitivo, riconferme, giovani e uomini di esperienza che hanno calcato ben altre categorie, tra questi l'alzatore Leo Parisi. In Bacheca una promozione in Serie A1, 2 in A2 e la vittoria della Coppa Italia. Sono stato accolto molto bene, perché io non ero mai stato a Campobasso né a giocarci che a visitarla. Mi trovo bene, è una città molto accogliente e mi trovo bene con il resto della squadra, perché siamo un gruppo, diciamo c'è un bel mix tra veterani e giovani, quindi è il giusto compromesso. Ci sono 3 o 4, insomma, diciamo non anziani, però esperti li chiamo io e appunto composta anche dall'altra parte, insomma, dei più giovani. E questo può sicuramente essere un punto in più, perché le giovani leve, insomma, staranno dietro a noi un po' più grandi. E quindi... Mettere a servizio della squadra sicuramente la tua esperienza che non parla solo di Serie B. No, ho fatto anche qualche esperienza, insomma, in Serie A. Ovviamente vengo da due anni che sono stato a Palmin a 3 e adesso appunto ho sposato questo progetto e sono contento di onorare, insomma, indossare questa maglia. Che campionato di Serie B ti aspetti inteso anche il ritorno in campo dopo un anno molto particolare? Eh sì, è stato un anno particolare un po' per appunto per quello che è successo per questa pandemia, quindi speriamo di far innanzitutto far tornare le persone, il pubblico a seguirci e a sostenerci, perché sarà sicuramente un punto in più a favore nostro. Speriamo, insomma, che cambi proprio totalmente l'andata. Adesso il campionato d'eccellenza. Via al massimo torneo regionale tra gli anticipi. Campo basso 1919, Olimpia Agnonese, Campo di Pietra, Guionesi, il sesto campano Boiano, fischio di inizio alle 15.30. Il quadro si chiude domani con Castelli Sangro, Venafro, Gambatese, Altilia, Samnium, Isernia, Pietra Montegorvino, Termoli, Arora, Ruri e Volturnia. Cliternina. Prima giornata perfettamente divisa a metà, domani in campo le restanti otto formazioni. Start al campionato di eccellenza. Prima giornata in programma nel weekend che darà il via alla stagione 2021-2022 del massimo campionato regionale, dopo le prime due partite di Coppa. Ma vediamo nel dettaglio i match. Al Gino Cannarsa il Termoli 1920 ospita l'Aurora Ururi. Subito derby del Basso Molise con punti pesanti in palio. Padroni di casa che vogliono recitare un ruolo importante nel torneo. Ospiti con l'obiettivo salvezza della mente. Albito dell'incontro è il signor Michele Criscuolo di Torre Annunziata. Secondo match in programma vede opporsi il Castel di Sangro ed il Venafro. Per i locali vale lo stesso discorso fatto per l'Aurora Ururi. Giocando in casa si punta ad un risultato positivo. Ospiti veterani di questo torneo partono favoriti e cercano subito tre punti pesanti in trasferta. Al Polisportivo albita il signor Michele Matarese di Termoli. Al Lancellotta la grande favorita della vittoria finale il Città di Serna a San Leucio Roccasicura. Dopo l'unpline di Coppe con due vittorie circa il Trist contro il Pietramonte Corvino. Bianco-Azzurri guidati dalla coppia Petrone-Panico vogliosi di riscatto dopo la finale pre-off persa pochi mesi fa. Per i rossoneri Pugliesi subito un match difficile che sarà diretto da Francesco Scarati di Termoli. Quarto match in programma si gioca al Venditti dove i padroni di casa della Gambatesa reduci dal brutto cappò contro la Turris attendono l'Altilia-Samnium per entrambe partita già molto importante. Le squadre con l'obiettivo salvezza che la comuna daranno vita a un match aperto con il Gambatesa leggermente favorito guidato dal sempreverde portiere Luca Capobianco. Questa partita sarà abitrata da Marco Orisano dalla sezione di Campobasso. Ultimo match in programma si disputa al Dianni di Cerro al Volturno dove la squadra di casa il Volturnia ospita la Cliternina altra partita all'esito incerto locali che sono in forma dopo i quattro punti conquistati in Coppa vogliono partire col peto giusto anche in campionato. Ospiti calvanizzati dal buon successo esterno sul Termoli 2016 di una settimana fa match affidato al fischietto di Corrado Ferrada di Serna. Ricordiamo infine che tutti i match inizieranno alle ore 15.30 non ci resta che goderci lo spettacolo e come dice il detto che vinca il migliore. Campionato di promozione Quattro gli anticipi di promozione Iumenes Termoli 2016 si gioca alle 15 mentre invece alle 15.30 Campomarino Baranello Don Chessagnone Trivento e Virtus Gioiese Guardia Alfiera domani sempre alle 15.30 Petacciato di Palimosani Spinete Maronea Torre Maggiore San Pietro in Valle e Turris a Esernia Fraterna. Anche in promozione quattro le gare della domenica. Dopo aver scaldato i motori con la Coppa Italia anche le squadre di promozione sono pronte a tornare in campo per il campionato dopo lo stop della passata stagione. Oggi quattro anticipi domani altrettante gare. A Santa Croce di Magliano la Turris dopo un ottimo precampionato vuole iniziare nel migliore dei modi anche la regular season. Al Vincenzo Cosco arriva la Esernia Fraterna. Se i padroni di casa hanno vinto e convinto nelle prime di uscite di Coppa che li ha visti prima pareggiare contro il Guglionesi e poi vincere contro il Gambatesa la formazione della provincia di Isernia non ha avuto un ottimo impatto alla nuova stagione rimediando due sconfitte. Ma il campionato ha una storia a sé e domani Turris a Esernia Fraterna verrà diretta da Vincenzo Gioviani di Termoli. Spostandoci al Marchese Battiloro dove il petacciato ospiterà il Ripalimosani designato Andrea Iafano di Isernia squadre che rappresentano due punti fermi del movimento calcistico molisano. Il petacciato con trascorsi anche in serie D il Ripalimosani da quest'anno tra l'altro inaugurato anche il progetto della scuola calcio. Nelle prime uscite di Coppa meglio e Bassi Molisani con un successo e una sconfitta due KO per i ripesi. In programma anche Spinete e Maronea due formazioni che in questi anni hanno sempre allestito squadre giovani ma competitive. I due team sono inseriti anche nello stesso girone di Coppa ma ancora non si sono affrontate. A chiudere il quadro i 90 minuti tra Torre Maggiore e San Pietro in Valle se i padroni di casa sono reduci da due sconfitte nella competizione tricolore il San Pietro in Valle è il reduce del successo interno contro l'Altilea Samnium. Domani Daniele Iuliano della sezione di Termoli darà il via alle ostilità. Tutti in campo in contemporanea alle 15 e 30. Domenica 19 settembre è in programma il primo memoria all'Antonello Siravo allo stadio Lancia e lotta di Isernia a partire dalle 14 e 30 in campo la squadra del cuore di Cerro al Volturno il Miranda le vecchie glorie dell'Isernia e il Macchia di Isernia. Durante la giornata è prevista una raccolta fondi per la famiglia di Antonello che verrà devoluta all'AIRC. Dunque vi ricordo gli appuntamenti con lo sport domani sulla nostra emittente domani giornata veramente intensa perché inizieremo la diretta televisiva alle ore 15 e 25 con a tutto campo naturalmente in studio Benedetta Fazio Gabriella Laurelli mentre ci saranno collegamenti con tutti i campi dove giocano le squadre molisane. alle 18 l'appuntamento con Domenica Sport che torna dopo la pausa estiva quindi Domenica Sport con fatti commenti opinioni interviste e immagini alla Domenica Sportiva subito dopo Domenica Sport alle ore 20 e 20 circa domani sera Rosso Blu Gol in contemporanea con la partita che il Campobasso giocherà a Viterbo contro il Monterossi quindi praticamente inizieremo la diretta alle 15 e 25 termineremo intorno alle ore 23 ma siamo sicuri di trovarvi tutti quanti naturalmente tutti i nostri degli spettatori e sicuramente di più perché insomma il riscontro delle nostre della nostra programmazione sportiva è davvero un successo e lo dobbiamo soprattutto a voi è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon fine settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti